ragazzi che cosa vorrei che si lasciasse alle generazioni future a voi no dunque io penso che voi dobbiate lasciare ai vostri figli un mondo che noi dobbiamo lasciare a voi questo dobbiamo fare in modo tale da avere qualcosa da lasciare ricordiamocelo abbiamo per troppo tempo pensato solo a quello che potevamo usare adesso pensiamo a quello che dobbiamo conservare grazie 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 grazie